Azione! Aspetta, tu non mi ha fatto lasci troppo questo. Ragazzi ci stiamo divertendo tantissimo, seguitevi. Perché tu fai una nera loggia, una loggia, scusate, era buona però eh. Stiamo facendo un sacco di gag, le famose gag bang. No, ho sbagliato, scusa. No, no, che stai una mamma bella! Perché tu fai troppo conto? Ciao! Prego su, cazzo di cosa, aspetta. Sono veramente felice, io non vorrei fare un'apologia di quello che stiamo facendo, ma dovendo dare un giudizio assiologico, io dico sì. Che cosa ho detto? Non lo so. Ma se non vieni da Fotoema, ti viene l'eritema.